Vai Desi, guarda in avanti, e sto, uno, guarda in avanti, stendi bene la gamba dietro Mari, due, forza Torlaschi, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Amalia raddrizza un pochino con la gamba dietro, e ancora uno, due, bene Angie che si atterra, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Mi allungo sulla gamba avanti, e provo a piegare il piede dietro al sedere, e a prenderlo con il braccio, o lo stesso o l'opposto, quello che riuscite, insomma. Mi allungo sulla gamba. Mi allungo sulla gamba.